Oggi, nella cucina della redazione di Cook, prepariamo la torta tenerina al cioccolato fondente Gli ingredienti sono uova, zucchero, cioccolato fondente, farina, burro e un pizzico di sale Cominciamo! Per prima cosa spezzettiamo il cioccolato E lo scegliamo a bagnomaria Aggiungiamo il burro E mescoliamo E continuiamo fino a che il composto non sarà perfettamente sciolto Togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare Ora lo possiamo versare in una ciotola Aggiungiamo i tuorli uno alla volta Abbiamo utilizzato un cioccolato fondente all'80% che è perfetto da mangiare da solo ma anche abbinato ad altri ingredienti Mettiamo un attimo da parte gli albumi che ci serviranno successivamente E uniamo lo zucchero Poi un pizzico di sale E la farina setacciata Amalgamiamo bene per eliminare tutti i grumi E montiamo gli albumi Quando sono sfumosi Li uniamo delicatamente al composto Mescoliamo dall'alto verso il basso per non smontarlo Bene, possiamo versarlo nello stampo in burro Lo livelliamo E lo inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti controllandolo spesso Ecco, la nostra torta è pronta L'abbiamo lasciata raffreddare alcuni minuti prima di sformarla E ora la cospargiamo con cacao amaro o zucchero a velo se preferite E poi la andiamo a tagliare Il mio consiglio è di farla a losanghe Musica 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 Grazie a tutti.